Si è battuto per difendere, promuovere e generare lavoro, ha un passato da sindacalista nel settore di metalmeccanici e ha seguito le vertenze più dure in diverse province marchigiane. Marco Bentivogli, residente nella cittadorica da 21 anni, è il candidato al senato per il centro-sinistra nel collegio Marche Nord che comprende le province di Ancona e Pesero Urbino. Rispetto a una sfida importante, come definisci innanzitutto la coalizione? È una coalizione intanto larga, ci sono solo due coalizioni in campo. Sono candidato al collegio rinominale per Partito Democratico, più Europa, sinistra italiana, Europa verde e impegno civico. È una coalizione con più idee ma con la capacità di costruire anche una sintesi per difendere la Costituzione e difendere e promuovere il lavoro. Quali sono i principali obiettivi? I principali obiettivi è tenere insieme l'emergenza con la prospettiva. L'emergenza è fatta di bollette che crescono e inizia a crescere di nuovo la domanda di cassa integrazione. Bisogna intervenire immediatamente per un tetto europeo del gas, per il disaccoppiamento dell'energia elettrica con il prezzo del gas. Bisogna avere dei canoni sociali per le famiglie più deboli e un credito di imposta che raddoppia per tutte le imprese che consumano energia. Tra i temi al centro del programma anche il piano nazionale di ripresa e resilienza e la flat tax. Fratelli d'Italia ha votato per ben cinque volte contro il PNRR e oggi lo vuole addirittura rinegoziare che significa perdere tutte quelle risorse. Noi pensiamo che invece vadano dedicate al rafforzamento del nostro paese, alle infrastrutture che in questa regione sono carenti, sono ormai vecchissime e lasciano in isolamento le marche per cui questo è un primo problema. Sulla flat tax quella che propone il centro-destra non è applicata in nessuna parte del mondo anche perché significa far pagare di più i più poveri e far pagare molto di meno i più ricchi. L'idea fondamentale invece è ridurre drasticamente le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale e soprattutto combattere l'evasione fiscale, tema che non esiste attualmente nel programma di centro-destra. Sul sistema sanitario invece due anni fa, ha detto Bentivogli, la giunta regionale ha chiesto voti promettendo servizi più vicini ai cittadini e nuovi ospedali. Ma vediamo che i nosocomi non sono stati costruiti, la medicina territoriale è indebolita e aumenta il tempo delle liste d'attesa. È un modo sostanziale, ha commentato il candidato, per privatizzare la sanità. Noi, ha precisato, siamo invece per una sanità pubblica. L'attenzione sarà poi rivolta anche verso l'ambiente. Assolutamente, noi abbiamo utilizzato le risorse di questo pianeta come se fossero infinite, ci accorgiamo del guai, disastri del surriscaldamento globale e su questo dobbiamo cambiare stile di vita, cambiare modelli produttivi, soprattutto ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili e puntare in modo serio sulle fonti rinnovabili. Tema che molto spesso nelle installazioni di nuovi impianti la burocrazia ne pregiudica qualsiasi realizzazione diretta. Vi preoccupano i sondaggi che danno il centro-destra avanti? Ma l'attitudine di questo paese è sempre cercare di immaginare chi ha qualche probabilità di vittoria e schierarsi tutti con salire tutti sul carro del vincitore. Io credo che questa destra rappresenti un problema, non tanto perché può rappresentare una svolta autoritaria, ma perché questa destra è tutto tranne che una novità. Giorgia Meloni è stata ministro del governo tra il 2008 e il 2011 e sappiamo come ha lasciato il paese in termini di disastro della finanza pubblica, in termini di debito pubblico che è cresciuto, in termini di disoccupazione giovanile e femminile che è cresciuta. Per questo noi abbiamo due esempi, quello a livello regionale e quello a livello nazionale, che fanno capire chiaramente che la destra non è una novità. La controprova di questo è che quattro assessori su dieci di questa regione sono candidati ad andare a Roma ed è un tema di scarsa serietà perché se si prendono i voti e si assume le responsabilità per cambiare la regione dopo due anni si scappa, evidentemente i risultati sono da celare. e ne è la riprova il giudizio che è uscito a livello nazionale sul governatore Acquaroli che è terzultimo nella classifica di tutti i presidenti delle regioni a livello nazionale.